Potrebbe arrivare ad un anno di distanza dal brutale omicidio di Katia Dello Marino la sentenza del processo a Peter Polverini, il 25enne san giustinese accusato della morte della quarantenne biturgenza e ritrovata senza vita e con la testa fracassata lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Afra alle porte di Sansepolcro. Sono stati infatti affidati oggi gli incarichi per le due perizie sul giovane, una psichiatra e l'altra medico legale che dovranno far luce sulla sua personalità. I risultati dovranno essere consegnati entro il prossimo 15 giugno. Le due perizie erano state disposte dal gruppo Pier Giorgio Ponticelli al termine dell'udienza dello scorso 17 marzo. La procura ha incaricato la professoressa Liliana Dell'Osso, responsabile del servizio psichiatria dell'ospedale di Pisa e Marco Di Paolo, primario di medicina legale a Pisa. Il GUP ha invece nominato lo psichiatra Roberto Biaggiotti e il medico legale Roberto Testi dell'Asla di Torino, mentre la difesa ha riconfermato il medico legale il dottor Angelo Stamile. La prossima udienza è stata fissata per il prossimo 10 luglio. A questo punto si potrebbe quindi andare a sentenza ad un anno esatto dal delitto della donna. Il PM Giulia Maggiore aveva inoltre richiesto per l'imputato 15 anni, ma la luce degli esiti delle perizie potrebbe anche riformulare la sua richiesta.